...attraverso gli occhi, il cuore, candidi di una giovinetta, si chiamava Giacinta Marta, oggi celebriamo il centenario della sua morte, era uno dei pastorelli di Fatima e ad accompagnarci mano per mano in questa storia d'amore bellissima. Oggi abbiamo padre Vincenzo Voccia del santuario di nostra signora di Fatima, San Vittorino. Padre Vincenzo, benvenuto, benvenuto questa pastorella. Ma ha tanto da dire ancora oggi, anche e soprattutto forse alle generazioni che conoscono poco questa storia. Però io faccio un passo indietro, perché padre Vincenzo, l'amore che lei porta per la Madonna di Fatima non è proprio casuale. La sua vocazione ha un debito di riconoscenza, posso dire così, nei confronti della Madonna. Possiamo raccontarlo? Io dico che sono proprio un frutto dell'albero di Fatima, di questo luogo che la Madonna ha scelto per spargere grazia di conversione nei confronti di coloro che ne avevano bisogno. E lei aveva bisogno? E io molto, molto bisogno, indubbiamente. Cosa succede quando lei aveva già una vita piuttosto di quelle decise, quasi a tavolino? Tutto andava bene, il bel lavoro, le cose? Io ero ferroviere, ho fatto otto anni in ferrovia a Roma-Trastevere, ero in biglietteria e insomma vivevo un po' come vivono tutti i giovani, immerso nelle offerte che il mondo senza Dio propone alla gioventù. E quindi ero molto lontano, diciamo, da un qualsiasi cammino di fede, anche se sono sempre stato credente, da bambino, insomma, in famiglia, eccetera, ma poi crescendo la scuola, il lavoro, le amicizie, le fidanzate, insomma, tutto passa. E quindi, diciamo che un giorno, ecco, all'incirca settembre del 79, avevo già 29 anni, insomma, sono del 50, sono andato al mio paese di origine, io vivo a Roma, ma sono nato a Scafati, è un paese... In Salernità, provincia di Salerno, Scafati. In Salernità, brava, attaccato con Pompei. E lì c'ho mio papà a sepolto, sono andato lì a trovare papà e a fare altre cose. E poi a ritorno mi sono fermato nella piazza di Pompei. Perché? Perché con me sono venuti degli amici, con i quali poi dopo ciò che dovevo fare, dico andiamo a Napoli, mangiamo una pizza, insomma, ci divertiamo un po'. Se mai puntavate più agli scavi che non al santuario, probabilmente. Assolutamente, infatti faceva realmente caldo in piazza. Io sono arrivato prima e sono entrato, non in chiesa, ma nel negozio dei souvenir. E lì, diciamo, ho cominciato a perdere un po' di tempo in attesa dell'appuntamento con questi amici. E a un certo momento, girando questo negozio, ecco, ho visto, mi ha colpito moltissimo, la copertina di un libro, tutta azzurra, ecco, con questa Madonna stagliata in questo sfondo, tutto bianca, lei, non sono laziale, comunque, è bianca. Va bene, ma un po' c'è il cesto e anche il colore del Napoli, eh, insomma. Voilà, brava, brava. E quindi questa, diciamo, questa immagine mi ha così colpito che ho comprato questo libretto. Vabbè, poi, insomma, sono uscito da Napoli, Roma, a letto là, il giorno dopo torno dall'ufficio alle due, mangio qualcosa, mi metto sul letto per riposare. E mi ricordo che avevo comprato questo libro. Lo prendo dalla mia scrivania, dico, gli do un'occhiata. Ma che occhiata? Me lo son letto tutto. E che libro era? Me lo sono mangiato. Le meraviglie di Fatima parlava... È impressionante. Parlava, parlava appunto degli avvenimenti di Fatima. E io leggevo a sta Madonna che è apparsa. E sti bambini che facevano penitenze, pregavano. E non mangiavano, e non bevevano. E si buttavano giù dal letto di notte per pregare prostrati per terra e dalla preghiera insegnata dall'angelo del Portogallo. Insomma, non c'era sacrificio che non offrivano per i peccatori. E questa cosa mi ha chiaramente colpito... Ma dica la verità, per uno, perché questo è bellissimo, perché finché uno certi fatti li conosce, più o meno si fa un'idea. Ma per uno che non avesse mai sentito parlare, la sua prima reazione? Avrà detto, sono pazzi fulminati, sti due oppure cosa? Brava, è proprio lei accentrato. Perché dico, ma sono più matti questi. Però io più andavo avanti nella lettura, più sentivo proprio un bisogno fisico di andare in questo luogo a vedere sto posto dove accadevano, erano accadute tanti anni fa, queste cose. Insomma, per non portarle alla lunga, alla fine sono partito il 10 ottobre, perché volevo essere lì per il 13, per l'anniversario dell'ultima apparizione. Però sembra che qualcuno non voleva che io arrivassi. Sono partito il 10 da Roma Termini, io ferroviere, ho sbagliato treno. No, vabbè, questo è meraviglioso. È meraviglioso. Eh, no, è bellissimo. È bellissimo. Cioè, non è che ho sbagliato. Ho preso la carrozza perché in Francia si divideva in due il treno. Una andava a Parigi, l'altra andava a Barcellona. E io ho preso questa carrozza sbagliando. Mi sono svegliato perché, avendo una vita molto disordinata, ero stanco morto e ho dormito tantissimo nel treno. Non mi sono accorto di questa cosa. Mi sono ritrovato a Parigi. Ma questa è la campagna di Parigi. Io conoscevo benissimo Parigi. C'era stato molte volte. Insomma, alla fine non voglio essere lungo. e torno indietro, prendo un altro treno, va a Barcellona, va a Madrid, Madrid-Lisbona. Insomma, io ho avuto tante di quelle opportunità del mondo che non mi avrebbero impedito di andare a Fatima. Come se qualcuno voleva che non ci arrivassi veramente. Io sono arrivato il 13 mattina, in mattinata, mentre c'era questa funzione liturgica, che poi ho saputo essere la messa, non ero tanto pratico, insomma, a quel tempo. Ecco, poi quando, e poi pioveva, pioviscicava, io ho aspettato, diciamo, al termine della piazza che finisse il tutto. Qua un certo momento tutto è finito, la gente ha cominciato a sciamare, perché veramente c'era una marea di gente. Sono potuto entrare nella piazza, in questa conca, e avvicinarmi alla cappellina dove, ecco, la Madonna è apparsa. E lì c'era ancora molta gente che pregavano, ognuno ha la propria lingua, eh? E io stavo lì davanti a sta Madonna. A quel tempo non c'era la copertura che c'è adesso, solo la cappellina, semplicissima, bella, no? E guardando la Madonna dico, ma quello prega, quell'altro prega, ma prego pure io. E ho cominciato a dire qualche Ave Maria, ecco, nella mia mente, diciamo. E lì è capitato un fatto strano, lo presento, come dire, mi sembra, ecco, che a un certo momento, non so se la seconda o la terza Ave Maria, e lì la Madonna è scomparsa, la cappellina è scomparsa, la gente è scomparsa, è scomparso tutto, e ho avuto davanti, come l'impressione, insomma, che ci fosse un muro bianco, ecco, e sul quale ha cominciato a sfrecciare tanti fotogrammi della mia vita passata, da quando ho cominciato ad avere cognizione, fino, insomma, poco prima di arrivare a Fatima, e vedere tutti questi fotogrammi, cioè io ho visto veramente, ecco, mi emoziono un po', ma comunque chiedo scusa, ecco, perché è inesperienza. suonando lei, io non ho il coraggio di smettere di ascoltarla. E a un certo momento, ecco, vedendo, insomma, tutta sta roba che io avevo combinato, no? Quindi cose molto lontane da ciò che Dio vuole, ho provato un senso di vergogna, e chiedo scusa per la parola forte, ma proprio di schifo nei miei confronti, no? E' come se il Signore mi avesse fatto capire che cos'è il peccato, il mio peccato. Quindi è stata un'esperienza terribile. Ho talmente avuto paura, vergogna, schifo di me che sono scoppiato a piangere in un modo incredibile. Chissà che ho combinato, non lo so, comunque. E mi sono sentito, e questo prendetelo con molta... già sotto, come se stessi già cadendo nell'inferno, se avesse già il fuoco che mi bruciava sotto i piedi. E' un'esperienza difficile da comunicare. E' anche tremenda, Grigio. La dico a modo mio. Ed ero talmente... Mi sentivo dannato. E a un certo momento ho detto con tutto il cuore, madonnina mia, aiutami. Proprio mi è uscito proprio con tutto il cuore, no? E dopo aver detto, aver fatto questa esclamazione, ecco, mi sembra di aver sentito nel cuore una voce femminile, molto bella, dolce, pacata, che per due volte mi ha detto questa frase. Datti a Dio, datti agli altri. Datti a Dio, datti agli altri. E io, come quando uno sta affogando, no? E uno ti tira una corda per salvarti, ho visto, ecco, questa proposta che io penso vi sia venuta dalla Madonna, indubbiamente, poi ognuno la pensi come vuole. Ho detto, sì, madonna mia, lo voglio. E io appena ho detto questo, lo voglio, tutta questa disperazione, questo dolore che io sentivo dentro, questi strilli che facevo, ecco, si è trasformati in una gioia, ma in una gioia così incontenibile che non ho mai più provato, che ho continuato a strillare e a piangere perché non potevo contenere questa gioia così bella. Capito? E quindi, senza, dato che il Signore, tutta roba sua, mi ha fatto un cuore un po' buono, diciamo, via, ecco, dato che ho ricevuto questa bella grazia, perché ho sentito che la Madonna mi avrebbe salvato, ho fatto il voto di castità senza sapere che cos'era, perché ho detto che devo regalare qualcosa alla Madonna di così importante per me e cosa mi è venuta in mente, madonina mia, ecco, io non farò più sesso per amor tuo. Cioè, quindi, diciamo, è stata una risposta, eccetera. Appena ho fatto questo, è scomparso il tutto, io mi sono ritrovato per terra, pioveva, bagnato, attorniato dalle persone, chi mi dava lo schiaffetto, chi il profumo sotto il naso, chi i piedi alzati, chissà che ho combinato, insomma, mi sono trovato lì a terra dopo questa esperienza. Sì, padre Vincenzo, io credo che neanche, oggi la puntata l'ha curata la mia, grazia sera, credo che neanche grazie avesse capito fino in fondo cosa potesse arrivare. Io sono allibita, questo è il bello della diretta, nel vero senso della parola, di lasciarsi andare in questo incrocio di vite che passano sul divano, che passano in questo studio, questa è una delle storie più incredibili, forse, che non abbiamo mai ascoltato, perché poi ci vuole il coraggio, sai padre Vincenzo, uno potrebbe dire a me, cambio vita, no? Consagrarsi poi diventa un discorso diverso, c'è un filo che unisce Fatima con un posto a cui noi teniamo tanto qui a Roma, oltre al suo santuario, quello di Santa... Mi permetta soltanto una cosa, perché come prete ci tengo. Me lo dice dopo. Ok. Eh, perché mica ma che vogliamo finire tutto, ma stiamo scherzando. Ma Vincenzo, ma noi, una volta che la bocca diventa buona, mica può tornare amara, non esiste proprio. Ce ne andiamo per un momento con la nostra Gaia Romani, a Santa Andrea delle Fratte, questo luogo bellissimo dove si celebra l'amore per la medaglia miracolosa, per la Madonna miracolosa. beh, lì c'è una tappa obbligata che ci porta proprio a raccontare la storia dei pastorelli di Fatima. State con noi, guardate. Quest'oggi arriva qui a Santa Andrea la statua della Madonna pellegrina di Fatima e le reliquie dei santi pastorelli, Francisco e Giacinta, Marto. La volontà di celebrare insieme questo momento legato poi alla memoria del giorno 20, il 20 febbraio infatti, come ben sappiamo, è la memoria liturgica dei santi pastorelli di Fatima, è scaturita da una nostra esperienza precedente. Due anni fa, infatti, qui a Santa Andrea abbiamo celebrato la conclusione del pellegrinaggio della statua e delle reliquie in Italia e il concorso di popolo e la devozione che si respirò in quell'occasione ecco, hanno fatto sì che loro stessi desiderassero vivere quest'altro momento di grazia di nuovo qui a Santa Andrea. Noi siamo qui anche per vivere assieme una memoria liturgica particolare, quella dei santi pastorelli di Fatima e lo facciamo quest'anno in modo, in un certo senso, del tutto speciale perché è anche il centenario della morte di Santa Giacinta, Marto ed è bello festeggiarlo qui perché, dopo tutto, Santa Giacinta, nonostante la sua tenera età, è anche nota per la penitenza, che ha vissuto proprio in risposta a questo invito di Maria. Lei è stato un modello, un modello di penitente e anche noi, fratelli di San Francesco di Paola, che cerchiamo di far presente al mondo l'importanza della penitenza in vista della conversione, ecco, siamo più che lieti di avere quest'oggi la possibilità di celebrare questa ricorrenza così importante. Tra la Chiesa di Sant'Andrea e il Santuario di Fatima abbiamo dei punti in comune, abbiamo delle analogie. Di fatto, in entrambi i casi, a Fatima, in modo esplicito, qui a Sant'Andrea, ecco, di riflesso, ecco, la Madonna ha sostanzialmente chiesto la stessa cosa. Ha invitato, prima di tutto, alla conversione, perché l'apparizione di Maria, chiaramente, anche qui a Sant'Andrea, avrebbe, mediante la diffusione di questo evento, richiamato tante persone all'importanza di convertirsi e sappiamo che a Fatima, ecco, la Madonna ha esplicitamente chiesto la conversione al cuore immacolato dell'umanità. E poi c'è un secondo tema importante, quel triplice grido, ecco, materno, quell'invito di fare penitenza, ecco che a Fatima è risuonato in modo così importante, ecco, anche qui a Sant'Andrea delle Fratte in un certo senso lo ritroviamo, anche legato al carisma di noi frati minimi di San Francesco di Paola che gestiscono questo santuario. È una storia d'amore senza fine e ogni volta si riscopre qualche elemento in più. Per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, io spero vivamente che possiate rileggere questa storia anche naturalmente sui nostri canali YouTube, quella di Padre Vincenzo Voccia è una storia di conversione grazie all'amore per la Madonna di Fatima. Padre Vincenzo, tu hai questa percezione di una vita che a un certo punto non ti appartiene più, però devi fare un atto di umiltà, fai un passaggio obbligato almeno per il tuo cuore. Quando ti ritrovi zuppo di acqua perché pioveva, inginocchiato a terra con la gente attorno che prova a risvegliarti in un certo senso, qual è la tua prima decisione? Io ho sentito subito la necessità ed è quello che volevo appunto accenare prima ecco, di andarmi a confessare per togliere tutta quella roba che io avevo visto esatto, in questi fotogrammi diciamo della mia vita. Avevo bisogno proprio di scusate, vomitare tutto questo passato che non volevo. È come se il Signore mi avesse fatto vedere un po' con gli occhi suoi qualcosa di che cos'è il peccato. Io vi dico una sola cosa anticipiamo di un secondo la pubblicità perché adesso la domanda che mi viene in mente è quando tu torni a casa ti posso passare da lei del tu come al solito quando tu torni a casa quali sono le reazioni di chi ti conosceva in un modo e poi dopo questo viaggio difficilissimo complicato lo dico perché si fosse messo in ascolto solo adesso che cosa succede? Andiamoci a rin pubblicità togliamo di mezzo la storia di padre Vincenzo Voccia che io ringrazio padre Vincenzo è un sacerdote che da oltre dieci anni accompagna i pellegrini nel santuario di nostra signora di Fatima a San Vittorino che è a 25 chilometri da Roma però di oggi si è di Tivoli questo lo dico perché già sono arrivate mille domande sul luogo in cui portarvi è una storia che ha dell'inverosimile se ve la andate a rivedere su Youtube fate veramente un regalo a voi stessi è un accompagnamento mano per mano della Madonna che a un certo punto gli ha fatto vedere tutta la sua vita ed era una vita che non gli piaceva più di tanto padre Vincenzo nel momento in cui tu lasci Fatima e torni a Roma già ti chiedo questo viaggio come l'hai fatto e soprattutto quando torni chi ti era accanto che cosa capisce di te se intuisce questo cambiamento o meno cambiamento è stato radicale a tal punto che mia mamma poverina piangeva pure anche i miei fratelli preoccupati perché prima avevo una vita diciamo come accennavo poc'anzi e molto di più ritorno con la corona in mano in ginocchio dico se vado nella mia camera mia mamma entra dentro mi trovo davanti alla Madonna con le braccia in croce a dire questo è matto è matto ma l'amore di Dio quando è da quello che abbiamo capito è questo è dato noi siamo noi siamo del sud quindi diciamo mia mamma mi faceva anche delle domande povera figlia diceva ma ti hanno dato da bere qualcosa ti credo sei cascato per terra hai sbattuto la testa ma tu come lo spieghi lo dico sapete perché perché poi c'è grande difficoltà a farsi comprendere proprio dagli altri e si passa per pazzi fino a quando poi dopo questo amore contamina ma ci vuole fatica e ci vuole perseveranza io lo vedo dalle storie che raccontano tu che risposta le hai dato a un certo punto io ho capito subito che la grazia era per me in quel momento e dato che se Dio non dà una grazia a qualcuno ecco perché non dobbiamo giudicare male gli altri non possono capire quindi io sono entrato in questa ottica di incomprensione ma ho continuato a fare il mio cammino quindi ho continuato a lavorare tornavo andavo alla adorazione quotidiana la sera la messa col padroco frequentavo la chiesa ho cambiato totalmente vita e diciamo però questo non ha cambiato il cuore ecco di mia mamma adesso parlo di mia mamma ma anche dei miei fratelli insomma i miei amici suppongo certo i miei amici mi hanno organizzato delle trappole incredibili per farmi cadere in ciò che facevo prima ma sarebbe lunga la storia non è neanche il caso di raccontarla ecco ma quello che ti è servito a fare ulteriore verità e confermare il tuo cuore esatto ho dovuto confermare continuamente per tanto tempo questa grazia che io avevo ricevuto poi grazie a Dio il Signore mette i suoi strumenti sulla strada e ho conosciuto una badessa di Veroli morta in concetto di santità che mi ha aiutato a cominciare un cammino anche un'altra suora di Betania e poi l'infermiera della stazione ecco a cui avevo raccontato perché mi aveva visto cambiare dice ma a vincere una romanaccia a vincere ma che ti è successo e io le ho raccontato un po' velocemente il fatto e lei dico ma non so che fare datti a Dio datti agli altri ma che devo fare allora lei dice ma guarda lì a San Vittorino c'è un santuario mariano proprio la Madonna di Fatima che non conoscevo vai lì sicuramente e troverai qualche risposta e così sono andato e lì ho trovato le mie risposte che sono quelle risposte che anche voi aiutate a dare un minuto e non di più padre Vincenzo Maria di Fatima oggi che è il centenario ripeto della morte di Jacinta Marto uno di due pastorelli oltre poi a Lucia ricordate che erano tre che cosa ci chiede? dimmelo in un minuto oggi beh ci chiede indubbiamente la conversione del cuore che può avvenire soltanto se noi cominciamo ad avere una vita di preghiera in modo speciale rosario la Madonna mette in evidenza e una preghiera di penitenza di sacrifici che non è che dobbiamo mortificarci soffrire se serve anche quello ma è l'amore con cui mettiamo nel fare o non nel fare certe cose amore solo quello padre Vincenzo io sono convinta che noi ci rivedremo presto grazie dell'amore e della tua testimonianza bellissimo c'è amore anche come dice padre Vincenzo anche in scelte forse meno radicali in fondo tutto quello che noi facciamo può essere espressione d'amore c'è tanto amore quello attorno al quale si stringe una comunità che è quella di Acireale